In pochi secondi sono in una stanza preoperatoria, al mio fanco l'ostetrica chiede il mio nome, prova ad aiutarmi, mi indica la giusta respirazione per facilitare il parto. Io continuo ad urlare, chiedo il suo nome, mi attacco con la mano al suo abbraccio, comincio a perdere il contatto con il mondo, mi sento come drogata, è l'adrenalina. Continuo a chiedere qualcosa per i dolori, continuo a gridare che non ce la faccio, che non ci riesco, che non è giusto. Francesca all'ostetrica mi accarezza e mi dice con voce dolcissima che ormai il peggio è passato. Sono stata bravissima e ora manca veramente poco. A una nuova contrazione io urlo e comincio a spingere. Si accorge che il sacco amniotico non è rotto e la bambina non riesce a uscire. Allora mi dice di aspettare a spingere, con un attrezzo mi rompe le membrane. Per un attimo tutto sembra fermarsi e i dolori spariscono. Francesca mi dice di riprendere fiato, ormai è fatta. Un'altra sola spinta ancora e la mia dolcissima Alessandra sarà fuori. Non finisce di dirmi questo che arriva la contrazione. È un crescendo, i dolori si fanno sempre intensi. Io comincio a urlare il nome di Francesca con tutto il fiato che ho in corpo e spingo. Sento l'emozione più grande del mondo. Sento il corpicino della mia piccolina uscire da me. I dolori finiscono, c'è tanto silenzio intorno. Tutto sembra ovattato, nessun vagito, nessun lamento, il niente. Alessandra è nata, è nata in silenzio, senza disturbare. Guardo l'orologio, sono le 12 e 30. Sento in lontananza pronunciare il mio nome, una carezza sulla guancia, apro gli occhi, vedo un po' offuscato e li richiudo. Mi sembrò che mi stessi riaddormentando, poi però all'improvviso vengo risvegliata da un forte pianto, il mio pianto. Mi sto svegliando, sto tornando alla realtà, alla cruda realtà che mi ha fatto soffrire, lottare, partorire per non avere nulla in cambio. Tutto questo per non avere tra le mie braccia la tanto cercata, attesa e voluta Alessandra. Continuo a piangere, mi sfogo, mi sveglio completamente con lo sguardo cerco Francesca. Dopo pochi secondi lei è qui davanti a me, mi dice che è andato tutto bene, anche il raschiamento non ha avuto complicazioni. Mi misi seduta sul letto, ricomponendomi per quanto possibile. Mi trovavo di nuovo nella saletta preoperatoria. Francesca guardandomi disse, sei pronta? Io, legandomi i capelli, quasi per rendermi più presentabile, le dissi di sì. L'orologio della sala operatoria segnava le 13 e 15. Uscì e dopo poco tornò con un lenzuolo verde tra le braccia. I miei occhi si riempiono di lacrime, ma prepotentemente le respingo indietro, non posso presentarmi a mia figlia in lacrime. Francesca la posa sul letto davanti a me, la guardo, sembra che dorma, ha il ditino in bocca. Le sfioro il piedino, è bellissima, è uguale alla sorella, esclamo. In effetti è la copia di Giulia quando è nata, stessi piedini, stessi occhietti, abbottati, stesso nasino, è Giulia in miniatura, ripeto. La carezzo delicatamente quasi per paura di farle male o di svegliarla dal suo dolce sonno. Le sfioro il piedino, il nasino, le manine, la testina e poi le do un bacio soffice sulla testolina. La stringo al petto con delicatezza. Amore mio, la mamma ti ama, ti ama con tutta se stessa. Sarei sempre nel mio cuore e in quello del tuo papà, non avere paura, saremo sempre vicino a te. In realtà quella da avere paura sono io, paura di non farcela, di non riuscire a superare quel dolore così grande e ingiusto. Ecco, ci siamo, manca poco. Presto lo sentirò piangere, lo stanno tirando fuori. Ma perché non lo sento? Mi preoccupo. Devo domandare cosa sta accadendo. Ah, ecco, sento qualcosa. È lui, il mio piccolo nanerottolo. È mezzanotte e dieci del 29 giugno 2011. Grazie, Alessandra. Sono le prime parole che sono riuscita a dire sentendolo piangere. Le lacrime scendono da sole. Chiedo se sta bene. Mi ritrovai così mamma speciale di tre piccole belle venterra e di una principessa in cielo. Trascorrerò il 14 luglio di ogni anno così festeggiando i compleangeli della mia pulcina, uno dopo l'altro, proprio come se lei fosse qui con noi, perché lo è e lo sarà sempre. Le parole che abbiamo ascoltato in questo momento sono tratte dal libro di Emanuela Perino che le ha anche lette. Alessandra Buffone, la sua vita, la sua vita per la mia. L'argomento che oggi trattiamo è un argomento estremamente doloroso, delicato, ma anche importante da affrontare in un luogo istituzionale e rappresentativo come questo. Stiamo parlando di morte per il Natale, di bambini, ovvero che perdono la vita prima o dopo il parto. Dice l'autrice, tutto sembra ovattato, nessun vaggito, nessun lamento, il niente. Alessandra è nata, è nata in silenzio senza disturbare. Siamo qui, proprio per far sì che questo silenzio però diventi non un grido, bensì una voce molto forte, attraverso la presentazione della proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale della consapevolezza sulla morte per il Natale. Tra l'altro questa proposta di legge è il punto di approdo di un lavoro già in precedenza svolto nella precedente legislatura, la sedicesima. L'obiettivo dell'istituzione di questa giornata è proprio aprire un dibattito, sviluppare anche la consapevolezza a partire dal dialogo tra le istituzioni, con le istituzioni, tra cittadini, con il Servizio Sanitario Nazionale, proprio perché è importante partire dalla diffusione di una problematica, di un fenomeno poco conosciuto come quello della morte per il Natale, proprio per acquisire consapevolezza, sensibilizzazione. Il contesto, abbiamo detto, è istituzionale, autorevole alla presenza del senatore Di Biagio, dell'onorevole Biffoni e ci sembra quasi strano parlare in qualche modo di sentimenti. Abbiamo voluto iniziare in questo modo forse anche un pochino anomalo all'interno di tale contesto. Tuttavia, proprio per dare un segnale molto forte, questo ci piace dirlo, proprio di una vicinanza, di un ascolto da parte delle istituzioni che quindi vogliono avere attenzione verso quella che è la vita quotidiana dei cittadini, istituzioni quindi vicine all'etica per restituire un messaggio positivo della politica. Istituzioni che quindi vogliono avere una visione e anche una missione nei confronti della vita che sia preservare la vita, che sia quindi attenzione nei confronti di tutte quelle famiglie che vivono un tale dramma, quello della morte per il Natale. E quindi ecco, in una società in cui, se vogliamo, si tende un pochino a narcotizzare il dolore, a nasconderlo, se vogliamo, all'interno di quelle che sono le mura domestiche, come se fosse un fatto privato, un fatto casomai da psicanalizzare ma da tenere nel chiuso della propria intimità, noi invece siamo qui oggi per dire una cosa diversa. E' importante istituire appunto una giornata sulla consapevolezza della morte per il Natale affinché il dolore diventi anche frutto di insegnamento, di condivisione e anche quindi di sapienza, non solo per chi vive questo dramma, ma per una comunità intera. Io, prima di dare la parola appunto alle istituzioni, volevo citarvi soltanto alcuni dati, molto brevemente, che poi riprenderemo anche con gli esperti qui presenti. Pensate che la morte per il Natale è un fenomeno che riguarda annualmente più di 2.500 famiglie in Italia, 2.500 famiglie che vivono in silenzio un dramma così forte. Tra l'altro, ecco, da studi estremamente importanti, si è rilevato che un attento esame di ogni singolo caso potrebbe individuare nel 70% dei casi le cause. E quindi rispetto a quello che è la situazione italiana, parleremo adesso con il senatore Aldo Di Biaggio e con l'onorevole Matteo Biffoni, anche perché il 15 ottobre è stata la giornata internazionale della consapevolezza sulla morte per il Natale, una giornata che è riconosciuta negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito. In Italia vogliamo capire però a che punto siamo, quindi lo chiediamo a voi, senatore Di Biaggio, firmatario del disegno di legge al Senato, membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Prego, senatore Di Biaggio. Grazie Marzia. Un tema molto delicato, complesso, che ovviamente merita una grande sensibilità da parte di tutti noi. Un particolare ringraziamento a voi tutti oggi qui presenti. Sono giornate particolari anche a coloro che si occupano di stampa, ovviamente. Sono consapevole che potrebbero esserci temi più immediati, ma questo credo che sia un tema importantissimo. Tocca la sensibilità di moltissime persone. Quindi malgrado tutto, malgrado anche la stabilità, oggi ci tenevo molto a essere qui con voi e a condividere questo momento. Voglio anch'io fare dei ringraziamenti a Marzia, con cui ho collaborato in tante battaglie, mettendo tutto me stesso e dando il mio contributo. Al collega Matteo Bifoni, che ha voluto in un certo senso insieme a me farsi portatore alla Camera dei Deputati di questa proposta di legge. A Claudia Ravaldi e Alfredo Vannucci, Presidente e Vicepresidente di Ciao Lapo. Una realtà che io giudico meravigliosa. Personalmente mi si accappona la pelle quando penso quel lavoro incredibile che voi fate di sensibilizzazione. A Manuela Perino, per le parole che ci ha dato in questo momento, che ovviamente invitano tutti noi a riflettere. Io penso che la morte per i Natali sia una piaga sociale allo stesso tempo, una falla del sistema nazionale. Lo confermano i dati. Ho qui alcuni dati. Una su 250 nascite nei paesi industrializzati. È tantissimo. 10 superiore alla frequenza della morte in culla. Riguarda annualmente più di 2.500 famiglie, così come diceva Marzia. Sono dati sconvolgenti. Non vi nascondo che, avendo trattato questo tema, avendo cercato di approfondirlo, ho visto una profonda umanità di gente che soffre nel silenzio, nel dolore della propria famiglia, senza voler uscire fuori, senza volersi aprire a un tema così importante. E tra l'altro questo l'ho riscontrato in moltissimi miei colleghi. È sconvolgente, credetemi, vedere quante persone in qualche maniera hanno vissuto questa profonda tragedia nella propria famiglia. Ce ne sono veramente tanti. Più di quello che uno si aspetta. Ecco perché è importante la politica dia un messaggio, un messaggio di vicinanza, un messaggio d'attenzione. Pare anche a noi, paradossale, che questa legge non sia, in un certo senso, ancora non abbia avuto il suo iter e non sia oggi una legge attuale nel nostro Paese che consenta anche noi di vivere questa giornata della consapevolezza. Una giornata in cui se ne sente profondamente la mancanza. Perché quello che vogliamo è poter comunicare a tutti l'esigenza di conoscere, di approfondire su questo tema. Far comprendere a tante giovani coppie che affrontano purtroppo la gravidanza con semplicità, che forse non ci si rende conto, e che trovano una chiusura spesso di chi non intende in un certo senso negli ospedali, come dire, legittimare che la gravidanza è comunque un aspetto medico che va curato e va visto con attenzione. La si vuole rendere una cosa semplice, quasi banale. Non è così. Quindi in questo noi vogliamo in qualche maniera portare il nostro contributo. Il contributo di una proposta di legge che dia questa giornata e che consenta in qualche maniera a tutte le persone di poter avere quell'informazione dalle strutture mediche, dai media, dalle realtà anche del mondo dell'associazionismo, così come fa eccellentemente l'associazione Ciao Lapo, di avere quelle risposte significative che sono utili perché questo non accada. Io non mi voglio approfondire, non voglio allungarmi più di tanto, ma voglio evidenziare un solo aspetto. Cioè questo è uno strumento, secondo me, di crescita su sale, di tutela medica e, permettetemelo di dire, anche di consapevolezza culturale. Grazie. Il passaggio culturale molto spesso è l'elemento più coraggioso e anche il passo più difficile da fare. Per cui veramente ringraziamo i presenti e questa proposta di legge che avete voluto, proprio perché sicuramente ci porterà ad un cammino e ad un'evoluzione significativa in termini culturali, ma anche di protezione delle famiglie e del loro accompagnamento. Prima di passare la parola all'onorevole Biffoni, vorrei ricordarvi che per chi volesse fare delle domande avete in cartellina dei bigliettini, quindi potete farli per venire qui al tavolo dei relatori per formulare le vostre domande in maniera tale che poi possiamo rispondere adeguatamente entro le 15 e 30, che mi pare sia il termine di chiusura dei lavori. Ci saranno i nostri angeli custodi in sala che ritireranno le vostre richieste. Passiamo quindi a sentire il punto di vista dell'onorevole Biffoni della Commissione Giustizia, giovanissimo e firmatario, tra i firmatari appunto della proposta di legge alla Camera con l'onorevole Caruso, Sberna ed altri che sono qui presenti. Sì, prego. Grazie a tutti voi di essere qui. Io non rinnovo ma mi accodo ai ringraziamenti del senatore Di Biagio per l'iniziativa di oggi, per chi ci ha lavorato. Permettetemi, spero che nessuno si offenda se in particolare ringrazio Claudia e Alfredo che per me oltre a essere il vicepresidente e il presidente di Ciaola Polnus sono persone con cui ho condiviso un pezzo di vita e che se io sono consapevole e interessato a far sì che questa proposta di legge diventi effettivamente norma dello Stato è anche grazie a quanto loro mi hanno insegnato e mi hanno fatto capire nel corso di questi anni. Guardate, io sarò breve perché, lo accennava il senatore Di Biagio, sono molto d'accordo. La politica è spesso presa dalle questioni contingenti, giustamente. Ci sono temi che pressano, questioni importanti, urgenze, risposte che il Paese si aspetta. Però ci sono delle decisioni. A un certo punto la politica deve dare anche delle risposte su questioni che entrano nella vita delle persone che possono apparire magari a chi sta fuori da questa sala, a chi non ha mai vissuto questo dramma, effettivamente delle questioni di cui ci si può anche occupare in un secondo momento. Non è così. Non può essere così. Perché se noi vogliamo un Paese migliore, un Paese che allarga lo spettro dei propri diritti e quindi dove ci si vive meglio, è necessario anche passare, secondo me, attraverso momenti del genere. E con questa proposta di legge noi questo proviamo a fare. Noi vogliamo istituire una giornata che è quella della consapevolezza che serva ad attirare l'attenzione su un dramma che molti, i numeri lo dicevano, molto spesso, a mio modesto modo di vedere, sottovalutati. Perché non tutti hanno la fortuna di avere a che fare con persone come Claudio, Alfredo e come tante altre che ho conosciuto in questo percorso. Io non ci sto. Non mi voglio arrendere semplicemente a trattare questi eventi come a una resa al fato, a un'eventualità alla sorte maligna. Non mi sta bene. Non voglio che il mio Paese, a differenza di tanti altri Paesi evoluti, democratici, moderni, sia contenti di questa spiegazione su un dramma che colpisce in maniera così violenta le famiglie e la vita delle persone. E allora io credo che il mio piccolo ruolo, insieme agli altri firmatari della proposta di legge, insieme al senatore Diabbiagio, sia proprio questo. Quella di provare a spiegare a tutti quanti, al mondo scientifico, al mondo accademico sicuramente, ma anche a tutta la nostra comunità, che c'è bisogno di approfondire, c'è bisogno di approfondire, c'è bisogno di conoscenza, c'è bisogno di provare a fare un percorso che magari possa portare ad evitare che si ripetano in futuro questi drammi. E soprattutto che quando accadono questi drammi è necessario stare vicini alle famiglie, è necessario che dentro le strutture, dentro gli ospedali ci sia un sostegno, ci sia un punto di riferimento che possa aiutare chi ne ha bisogno ad affrontare, a superare momenti così drammatici, momenti così difficoltosi per la vita delle persone. Ecco io penso che noi oggi partiamo con questo percorso, mi auguro davvero che ci sia una consapevolezza diffusa all'interno del Parlamento. Guardate, io lo dico ancora aperto, quando il 15 ottobre ho fatto l'intervento alla Camera sulla giornata della consapevolezza, con un grande piacere, ma anche con un certo dolore. Ho visto quante persone dopo mi si sono avvicinate chiedendomi spiegazioni su questa giornata. Questo significa che c'è ancora strada da fare, c'è ancora tanta strada da fare, perché se anche qui dentro non c'è ancora una piena consapevolezza di quello che sta discutendo, vuol dire che ancora tanto percorso culturale, fatemelo dire che così c'è da fare, ma nello stesso tempo significa che c'è attenzione, significa che il percorso che stiamo intraprendendo oggi è quello giusto. E allora insieme a tutti voi, noi, la politica in questo caso, proverà a metterci del suo con il sostegno di Ciao la Pollos, con il sostegno di tutte le persone, di Marzia, di tutte le persone che se ne occupano e che sono certo ci daranno una mano per vedere se noi riusciremo effettivamente a donare a questo Paese un diritto in più e quindi a rendere questo Paese un posto leggermente migliore dove vivere. Io ci credo molto e credo che davvero su questa battaglia noi possiamo dare un bel segnale a tutta la nostra comunità. Grazie. Sia Aldo che Matteo ci dicono noi siamo la politica, io oserei aggiungere noi siamo la bella politica perché intanto vedere che c'è appunto trasversalità e attenzione su un tema tanto importante, questo ci fa comprendere veramente come fare politica sia non fare partitica in un certo qual modo, superare quello che potrebbe essere in qualche modo il limite di diversi punti di vista e invece il dialogo è la fonte dell'apertura e della costruzione di un Paese che ha tanto bisogno di essere costruito, strada facendo. Per cui ora sentiamo appunto dalla voce degli esperti qual è la situazione, la fotografia italiana ma anche a livello internazionale. Abbiamo già detto l'Italia come fanalino di coda della conoscenza di questo fenomeno e appunto Ciao Lapo Onlus si sta dando molto da fare, è l'associazione attiva che grazie alla quale appunto siamo oggi qui sicuramente insieme al senatore Di Biaggio e all'onorevole Biffoni e Ciao Lapo Onlus sostiene appunto nella sua operatività quotidiana famiglie, genitori, il loro lutto e quindi è un sostegno dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sociologico, medico, sanitario per cui ecco è fondamentale questa battaglia che voi quotidianamente portate avanti tra l'altro con delle collaborazioni autorevoli, l'International Stillbirth Alliance e poi la pubblicazione dell'ANSET dell'aprile 2011 di cui appunto poi magari commentiamo insieme dei dati che sono davvero allarmanti perché di fatto si diceva poco fa c'è veramente molto da lavorare in termini di consapevolezza che poi è anche l'obiettivo dell'istituzione di questa giornata, 2,6 milioni di bambini nati morti ogni anno nel mondo, il 98% di queste morti avviene nei paesi in via di sviluppo, lo si diceva anche poco fa, tra l'altro le percentuali sempre più alte e significative sono però riguardano e interessano i paesi anche più ricchi. Io non mi soffermerai molto sui dati che mi piacerebbe appunto commentasse la presidente di Ciao Lapo Onlus, dottoressa Claudia Ravaldi, medico, psichiatra, psicoterapeuta, presidente appunto. In che modo si sta lavorando anche in termini proprio di prevenzione di questo fenomeno, di conoscenza del fenomeno a livello associativo ma anche a livello istituzionale, no? Parlavamo poco fa del fatto che magari dei piccoli tasselli nel corso degli anni, dei piccoli passi sono stati fatti, però ancora restiamo nella cortina del silenzio di questa che viene percepita ancora come una disgrazia, quasi come fosse un tabù parlarne. Prego, la parola a lei. Grazie. Io davvero devo dire e ringrazio tutti per lo sforzo condiviso in questi anni e il lavoro che abbiamo portato avanti in maniera congiunta. Fare rete in Italia sta diventando sempre meno un tabù e almeno questo ce lo dobbiamo riconoscere, non solo per la trasversalità del tema ma anche perché questo tema ci riguarda e ci riguarda come società, anche prima come addetti ai lavori. Io oggi sono qui in doppia veste perché sono un medico, sono ricercatore, prima di occuparmi di Ciao Lapo facevo ricerca nel campo della salute mentale e quindi conosco molto bene il disagio psichico e cosa lo provoca. Una delle maggiori cause è la negazione del problema e il tabù. Quando poi ho perso mio figlio e questa è la seconda parte, la doppia veste deriva dal fatto che la morte di nostro figlio ha portato una rivoluzione non tanto nella prassi del mio modo di essere psichiatra ma nel mio modo di essere cittadino. Mi sono trovata sola. La solitudine che Ben descriveva e descrive nelle sue parole Emanuela nel libro è una solitudine in cui disperatamente i genitori cercano aiuto nelle istituzioni e cercano aiuto negli addetti ai lavori. È una solitudine che però è destinata a rimanere tale dal punto di vista psicologico e psicosociale proprio perché la morte per i Natale viene congelata. Come se queste morti fossero morti meno importanti di altre e sappiamo benissimo dalla letteratura ma anche dall'esperienza di milioni di genitori che non è così. Perché la soggettività della percezione di un dolore è e deve restare tale, grazie a Dio, è quello che ci rende tutti diversi e tutti così preziosi. Qui non stiamo a parlare di scalette, a dire ma tu soffri meno, tu soffri di più. Qui siamo di fronte a un paese che si pone in fondo alla classifica dei paesi nei quali il percorso nascita possa prevedere che qualcosa vada male e si attivi per dare tutte le risorse disponibili alla famiglia, alla coppia, alla madre single, se madre single, per superare un evento che di per sé è fisiologico. Il lutto non è una malattia. Lungi da me voler patologizzare un evento che fa parte della vita dell'uomo ma può diventarlo. La solitudine fa ammalare le persone, la negazione del dolore fa ammalare le persone. Banalizzare questa cosa come vabbè succede a poche persone, non ti ricapita, è qualcosa che non si può spiegare. Oltre a essere profondamente falso dal punto di vista medico, perché laddove non c'è una spiegazione non è perché c'è la malasorte, vuol dire che la medicina non ha ancora fatto i progressi adeguati, ma rimane anche un fattore che può scatenare la psicopatologia, che può incidere non solo sulle persone che direttamente colpite e quindi sui genitori, sui nonni, sugli zii, può incidere sulle famiglie, sui fratelli, sui figli che verranno. Ci sono studi ricchissimi su questo, paesi dove il tasso di nati mortalità è più basso, come la Scandinavia, siamo intorno allo 0,2, in questo fanno guida, non solo perché sono più immediati nel riconoscimento dei fattori dei dischi preventivi e quindi adeguano le politiche sociosanitarie in modo tale da prevenire davvero tutto il prevenibile, ma anche attivano tutto il percorso di cura psicosociale che noi a fatica in questi sette anni e mezzo siamo riusciti a far passare la macchia di lopardo ai noi a livello ospedaliero, strutturale e aziendale. Siamo lontani da una valutazione globale, lo siamo, nella misura in cui ci sono delle faglie di resistenza psicologica, la chiamo io, ma no dai, non è un vero e proprio dolore, ma no, forse voi di Ciao Lapo siamo 4.000, non 2, un po' siete incattiviti su questa cosa perché l'avete presa di punta, basta studiare. Io chiederei alle persone qui di aiutare tutti a studiare il fenomeno, che è un fenomeno complesso ma non è inspiegabile, è un fenomeno certo che tocca a tutti noi, parlare di morte è difficilissimo, ma in alcune famiglie diventa inevitabile, c'è una ricorrenza nella morte in utero che colpisce le famiglie, quasi un terzo dei casi che non ha ricevuto diagnosi, andrà in conto a una ripetizione dell'evento, non possiamo lasciare solo le famiglie che poi si ammalano e tutti a stupirsi che c'è un costo nella cura del disagio psichico, ci sono gli onset, tutti lo dicono, è il late onset delle patologie alimentari o dei disturbi depressivi, per forza dico io, nella mia doppia veste. Non è stato facile elaborare il mio lutto, certo che è stato più facile perché ho avuto accesso alle risorse, ho scritto alle mamme internazionali, mi hanno risposto l'International Stilbert Alliance, le mamme delle associazioni estere, l'obiettivo di Ciao Lapo insieme alle istituzioni è quello di rendere possibile a tutti, coloro che non parlano l'inglese, il tedesco, il cinese, di avere in Italia supporto subito, durante il ricovero, dopo le dimissioni, localmente. Grazie. Grazie Presidente, quindi vediamo come anche l'accessibilità alle informazioni e la condivisione delle stesse sia uno degli elementi di fondamentale importanza, abbiamo qui richiamato concetti che magari con il buonsenso sembrano anche scontati ma poi di fatto non lo sono, proprio perché si parla di solitudine, di negazione del sé nel momento in cui è il dolore che viene negato quasi con una pacca sulla spalla, in qualche modo per cui ti si dice sì, è una disgrazia, magari sarai più fortunato, la vita non è una lotteria, in questo senso diciamo deve essere aiutata e fatta fiorire nelle migliori condizioni possibili, anche dal punto di vista normativo, perché questo vuoto quindi in qualche modo possa essere colmato, mi colpiva anche molto il concetto di congelamento, di questa solitudine e mi richiamava anche questo concetto un po' le parole che l'autrice scriveva nel libro, è nata in silenzio senza disturbare, quindi in effetti è proprio però da questo silenzio che noi stiamo imparando oggi ad essere generativi e portatori di vita in qualche modo. Vorrei passare quindi a questo punto la parola al vicepresidente di Ciao Lapo Onlus, dottore Alfredo Vannacci, medico farmacologo, rispetto proprio a quella che è l'esperienza di Ciao Lapo, cosa ci vuole raccontare? Grazie Marzia, intanto ringrazio tutti per la vostra partecipazione e soprattutto ringrazio i rappresentanti delle istituzioni qui presenti che così gentilmente ci ospitano e ci aiutano in questo percorso che purtroppo, come avete detto in Italia, non è facile. Vorrei proprio riprendere il concetto che è emerso più volte già negli interventi precedenti dell'Italia fanalino di coda. Perché l'Italia è fanalino di coda? Non è facile spiegare perché un paese come il nostro, al quale non mancherebbe niente né dal punto di vista politico né dal punto di vista scientifico, per essere all'avanguardia in questo settore, invece si ritrova avere una serie di problemi come quelli che noi purtroppo osserviamo tutti i giorni nei genitori che perdono figli in epoca perinatale. Io nel ringraziare ricordo anche il lavoro del senatore Di Biagio nella scorsa legislatura, il quale addirittura portò avanti un'interrogazione nella Commissione Affari Sociali su questo argomento e sollevò i problemi di cui oggi stiamo parlando e ottenne una risposta dall'allora Ministro, una risposta devo dire istituzionalmente ineccepibile, che però in realtà non affrontava il problema e non risolviva il problema perché giustamente il Ministro fece notare che esisteva un interesse dell'istituzione al problema, che erano stati fatti degli audit, era stato pubblicato anche un testo nel quale era chiaramente specificato come avrebbero dovuto comportarsi i sanitari in questi casi. Fatto sta che scrivere un libro, per quanto corretto possa esserlo, pubblicarlo online gratuitamente scaricabile, distribuirlo negli ospedali, francamente non è sufficiente risolvere un problema. Perché per quanto gli audit fossero stati fatti noi abbiamo dei dati obiettivi alla mano, abbiamo una valutazione diretta nei genitori che hanno subito questi eventi. Noi siamo una Ollus un po' particolare, una volta in un convegno a Firenze un accademico ci definì l'Apo come associazionismo scientifico, perché oltre a fare quello che fanno normalmente le Ollus, cioè il supporto, la raccolta fondi, eccetera, noi facciamo ricerca scientifica. E purtroppo è capitato a noi, siamo due scienziati, facciamo ricerca scientifica anche nell'associazionismo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto ai genitori della nostra associazione, che come diceva Claudia, gravitano circa 4.000 persone intorno a Cialapo, di rispondere a un questionario da noi specificamente sviluppato per valutare la qualità dell'assistenza che hanno ricevuto in Italia. E sulle mille persone che hanno risposto purtroppo il quadro che emerge non è dei migliori, perché tutto ciò che dovrebbe essere fatto a norma di legge, a norma di audit clinico, dall'ineguida del Ministero, francamente non viene fatto quasi mai. E devo dire non c'è una grande differenziazione territoriale nel nostro Paese in questo caso. Cioè ci possono essere degli ospedali virtuosi, ma non ci sono delle regioni o dei territori virtuosi in questo caso. È un problema diffuso più o meno in tutta Italia. Dico soltanto qualche numero per capire di cosa stiamo parlando. Io ho detto si parla di oltre mille persone e ben il 40% giudica l'assistenza ricevuta inadeguata. Addirittura sempre la stessa percentuale ritiene inadeguato il modo in cui le notizie sono state comunicate. Quindi proprio viene percepito una barriera comunicativa tra l'operatore sanitario e il genitore. Ma entrando nelle cose più tecniche, per esempio al 70% delle persone non è stato neanche proposto di creare dei ricordi del bambino. Cosa che in tutte le linee guida internazionali abbiamo sentito la preziosa testimonianza di Emanuela prima che nel terribile dolore che racconta non racconta atteggiamenti scorretti da parte di chi l'ha assistito. Una quota di approccio è stata adeguata, però vedete questo avviene nel 30% dei casi. Addirittura Claudia diceva può ricapitare, non bisogna chiamare in gioco la sfortuna. A noi risulta che nella metà dei casi non venga fatto nessun tipo di approfondimento, nessun tipo di approfondimento diagnostico, non venga fornita alcuna informazione ai genitori sul fatto che dovrebbero anche solo fare degli esami. Cioè nella metà dei casi vengono dimessi senza nessuna indicazione su cosa fare. Questo è un atteggiamento assolutamente scorretto secondo qualsiasi linea guida scientifica. Quindi non è accettabile che un paese ad alto sviluppo possa non seguire le raccomandazioni di tutti gli organismi internazionali che si occupano di morte per il Natale. tacciamo sul fatto che l'autopsia che dovrebbe essere per legge obbligatoria in oltre il 40% dei casi non solo non viene effettuata ma non viene neanche proposta. E qui non si tratta di linea guida medica, è obbligatoria per legge. È per questo che chiediamo una giornata di consapevolezza. È chiaro che non è che con una giornata di consapevolezza si risolvono immediatamente i problemi dell'assistenza. Però avere un riconoscimento istituzionale di un giorno nel quale si parla di questo argomento ci consentirebbe di superare tutta una serie di ostacoli di tipo culturale, di tipo burocratico e potrebbe portare verso una maggiore diffusione culturale, una maggiore accettazione culturale del problema e anche una facilitazione per chi le cose le vuole fare. Quindi rendere istituzionale questa giornata facilita l'aggregazione dei genitori, facilita l'autoaiuto, facilita l'organizzazione di giornate scientifiche per gli operatori. Porta in primo piano un problema del quale anche gli operatori sentono la necessità. Ora non ho dati nazionali ma sui dati toscani abbiamo intervistato 250 operatori della salute perinatale toscana, il 75% lamenta la mancanza di attività formative in questo specifico settore, quindi sono gli operatori stessi, noi non dobbiamo porci in opposizione agli operatori della salute perinatale, sono loro stessi che ritengono di avere bisogno di formazione in questo settore. Quindi io credo che nella medicina e psicologia si dice scotomizzazione, nel voler non vedere un problema, in realtà ci troviamo di fronte a un problema che è sentito da tutte le parti sociali. Quindi si tratta semplicemente di metterle insieme, tirare le somme e portare a caso un risultato che tutti ci stanno cercando. Grazie. Grazie Alfredo. Di fatto questa capacità di fare sintesi si potrebbe avere proprio grazie all'istituzione della giornata per la consapevolezza sulla morte perinatale. Io richiamo qui alcune cose che sono state dette, l'importanza ma anche l'ottimismo mi sembra di capire nella facilità di fare rete che si sta riscontrando pian piano, cioè voi in questo momento, mi concedo ancora magari una piccola battuta che chiedo alla Presidente, da questo punto di vista state avendo un'esperienza anche di messa a sistema di buone prassi, anche diciamo di condivisione di quella che è la vostra esperienza di accompagnamento, che tipo di professionalità poi portate nell'accompagnamento. Io devo dire, un po' con sorpresa, le colleghe australiane ci dicevano noi ci abbiamo messo vent'anni per riuscire a aprire un tavolo con i punti nascite e quindi con la sanità, io devo dire ci ho messo un po' meno, nel senso che ad esempio l'Emilia-Romagna, regione virtuosa, che da tempo si occupa di morte perinatale, sta recentemente istituendo tavoli tecnici a livello delle aziende ospedaliere, in cui Ciolapo viene chiamato a fare presenza e a fare come dire da ponte, da tramite, perché è rilevante non solo il punto di vista dei genitori, l'esperienza associativa, ma è proprio richiesto per migliorare la prassi assistenziale. Ci sono ospedali ancora più virtuosi nel Veneto, dove ormai da anni, anche grazie alla nostra collaborazione, sono state applicate le linee guida per l'accompagnamento dalla diagnosi alle dimissioni fino addirittura a due o tre mesi alla riconsegna dell'autopsia di tutte le famiglie colpite da morte inutero e morte perinatale. Sarò chiamata fra due settimane a presenziare con l'esperienza di Ciolapo rispetto all'interruzione terapeutica di gravidanza, che è un altro tabù nel tabù, se vogliamo, ancora più agghiacciante, e hanno chiamato noi per dire, beh, diteci un po' i vostri genitori cosa avrebbero voluto nell'accompagnamento, perché stanno pensando a delle linee guida a cui tutti gli operatori devono adeguarsi e riferirsi per dare non solo l'impressione, ma anche in sostanza, la percezione che l'equip è veramente curante e che l'equip fa ponte col territorio e quindi attiva il consultorio, attiva gli spazi territoriali per non lasciare solo e non abbandonare le famiglie a una semplice, ma se vuole chiami uno psicologo, vada al suo medico, no? Non c'è niente di peggio. Per una famiglia smarrita dallo shock di una perdita, che può essere in terapia intensiva nel Natale, può essere nel primo trimestre, indipendentemente dall'età gestazionale, ribadisco, che essere lasciati soli ad autogestirsi. Una persona in lutto acuto non può autogestirsi, può solo sperare di non fare danni, ma da soli il rischio di fare confusione è molto più alto. Ed ecco perché la rete, ma dai counselor agli psicologi, ai primari, alle anatomopatologi, abbiamo un gruppo di anatomopatologi preziosissimo italiano che ci sta offrendo, no? Informazioni e offrendo, come dire, sostegno per, come possiamo dire, il meglio possibile ai genitori che vengono a chiedere informazioni sull'autopsia del loro figlio, no? Cosa avrebbero voluto i genitori? Ci sono realtà virtuose a Genova, il professor Fulcheri invita nel suo studio la restituzione dell'anatomopatologica, dell'autopsia dei bambini, i genitori a sedere davanti al tè perché si è accorto che parlando una mezz'oretta i genitori riescono capendo cos'è successo e non con le sigle mediche che sono tanto belle per parlare ai congressi e per fare ricerca, ma sono fini a se stesse per i genitori. Non possiamo essere tutti medici laureati per sapere cos'è successo ai nostri figli. È giusto che anche il migrante, ad esempio, il tasso di morte in utero nei migranti è alto perché le donne non riescono ad accedere ai servizi e non riescono a capire le consegne anche in caso di gravidanza a rischio, è giusto studiare una comunicazione efficace davvero per fare prevenzione. E in questo molti operatori sensibili sentono il bisogno di fare rete e ci chiedono, io sono veramente grata perché potrebbero non farlo, potrebbero ostacolare, invece chi si pone il problema si rende benissimo conto che insieme funzioniamo molto meglio e snelliamo la procedura. Dott. Alfredo Vannacci, rispetto a questo, noi parlavamo appunto dell'importanza anche dell'accettazione culturale della formazione degli operatori e la Presidente dice che l'autogestione non aiuta, in qualche modo è importante e fondamentale avere anche una disciplina nell'affetto, una disciplina che quindi significa prendersi cura dell'altro con costanza, prendersi cura attraverso l'ascolto, prendersi cura attraverso la relazione perché poi di fatto un aspetto sanitario, una cura sanitaria che non sia costruita attraverso la relazione è un po' sterile, no? Un commento da parte sua. Sì, tra l'altro questo mi consente di introdurre un argomento che va chiarito spesso perché a volte quando noi parliamo delle necessità di assistenza delle persone che si sentono abbandonate può subentrare il problema, ok, ma chi le fa queste cose? Chi lo paga? Uno psicologo che doveva mettere in sala parto o in tutte le parti maternità? Nessuno perché non serve, perché non c'è nessuna ragione né di medicalizzare, di psichiatrizzare né di psicologizzare queste situazioni. Come diceva Claudia, il lutto non è una malattia, il lutto può essere gestito tranquillamente, specialmente in fase acuta, dal personale già presente negli ospedali, in particolare se parliamo di prenatale, soprattutto da parte delle ostetriche, uno dei nostri obiettivi fondamentali non è formare degli psicologi e metterli nei reparti, perché non lo potremo mai fare in tutti gli ospedali d'Italia, però in tutti gli ospedali d'Italia, in tutte le maternità, in tutte le sale parto ci sono le ostetriche. Se le ostetriche che sono il personale specificamente formato, che ha le specifiche competenze per gestire la donna in gravidanza, impara quattro cose tecniche in ambito psicologico per gestire queste situazioni di emergenza, può fare tutto, non c'è nessun bisogno di personale aggiuntivo, quindi uno dei nostri obiettivi è proprio questo, cercare di fare cultura diffondendo le cose fondamentali, i fondamenti basilari dell'assistenza psicologica in fase acuta, alle persone che poi si trovano tutti i giorni a fronteggiare questi problemi. Quindi quando loro lo sanno fare, poi forse non c'è neanche più bisogno di ciò l'acqua. C'è qualche domanda da parte dei presenti? Io a questo punto chiuderei e ringrazierei tutti voi intervenuti a questa giornata con una brevissima lettura della chiusura proprio del libro di Emanuela, in cui Emanuela dice ci dà un grandissimo insegnamento. Lei dice Sono convinta che Alessandra e il suo breve passaggio qui abbiano avuto questa importante funzione. Lei mi ha dato la possibilità di curarmi, consentendomi di lottare contro un male che se non avessi scoperto in tempo mi avrebbe portata via dai suoi fratelli, dalla mia vita, da mio marito e da tutti quelli che veramente mi vogliono bene e che hanno saputo starmi vicina, senza critiche o giudizi, sostenendomi e comprendendomi. La sua vita per la mia vita. Questa spiegazione non sminuisce certo il dolore per la sua perdita, non mi rende felice, non riempie il mio vuoto, ma mi dà la possibilità di conviverci in una sorta di silenzioso e reciproco rispetto. Sono sicura che per ogni sofferenza che la vita ci mette di fronte ci sia un perché proprio dietro l'angolo, che prima o poi si disvela e ci apre le porte della verità, mostrandoci un mondo mai visto. Grazie.